Una strada assassina lungo la fascia ionica calabrese, la strada statale 106, arterie di 400 km da Reggio, a Roseto Capospulico, da circa 40 anni, è tristemente nota come la strada della morte. Una striscia di asfalto che in decine di zone, in particolare locride, soveratese e sibaritide, somiglia più a un cimitero, considerate le centinaia di lapidi e mazzi di fiori presenti ai lati delle carreggiate che rendono ancora più pericoloso il transito. La 106, in Calabria, dal 1996 a oggi, ovvero da quando esistono i sistemi per il rilevamento di incidenti e mortalità stradale, ha provocato 12.000 sinistri, 27.000 feriti e oltre 750 vittime. Solo negli ultimi 10 anni sono decedute circa 250 persone, una media di 25 all'anno. E negli ultimi 4 la tendenza è peggiorata nel 2023, ormai agli sgoccioli. I morti sono stati finora 25, gli ultimi 2 a dicembre. In uno scenario simile continuano le promesse e gli annunci della politica, con tempi sempre incerti, sull'inizio degli interventi di rifacimento. Per quanto riguarda i 7 lotti finanziati con 3 miliardi, l'appalto integrato della progettazione esecutiva e dei lavori dovrebbe andare in gara, presumibilmente, prima dell'estate 2024. Le date sono soggette alla modalità e alla durata della procedura di via valutazione di impatto ambientale. Sarebbe in corso inoltre l'appalto del primo stralcio della tratta Catanzaro-Crotone per 270 milioni di euro con aggiudicazione prevista entro dicembre, mentre per i lavori nel Regino ancora mancano persino i progetti.